Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con la regina dei rally Lancia Stratos HF, Livrea Alitalia, edizione Centauria, un modello in scala 1 a 8 uscita numero 45, pilota Sandro Munari, navigatore Silvio Maiga Andiamo subito a vedere la seconda di copertina dove troviamo i numeri utili e i servizi Questo è quanto riceviamo in questa uscita Andremo a vedere poi tutto bene nel dettaglio Ma sapete che a me piace dare possibilità a chi lo desidera di poter guardare tutti quelli che sono i contenuti e anche se volete poter leggere quanto è scritto Il montaggio è molto semplice perché è ben dettagliato Dobbiamo solo fare attenzione a delle cose che poi vedremo Intanto ringrazio tutti i miei iscritti, tutte le persone che mi visualizzano grazie a tutti i ragazzi per continuare a dare vita al mio canale Per quelli invece che non si sono iscritti ma che hanno piacere di farlo ma semplicemente si dimenticano Michele ve lo ricorda Ragazzi iscrivetevi, attivate la campanella così da rimanere sempre aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non solo di auto Se ci fosse qualcuno tra di voi che avesse il piacere di farsi montare il modello da Michele mi contatti privatamente, grazie Ecco qui Procediamo Sono già andato a vedermi un po' di cose Sapete che questo è un canale che non si occupa del solo montaggio ma cerca di aiutare le persone che hanno più difficoltà nel montare i modellini All'interno troviamo, mi raccomando, non toccate le parti diciamo più sensibili con le dita prendetela così non fate flettere la scheda quando poi andremo ad inserire gli spinotti perché potreste danneggiarla Questa è la scheda elettronica mettiamola così la faccio vedere Ovviamente tutte queste attenzioni che io ripongo nel far vedere il modello da vicino è dedicato a coloro i quali non hanno fatto la collezione è ovvio Ecco la scheda Poi abbiamo l'interruttore fate attenzione perché questa parte è metallica adesso vi dico il perché dovete fare attenzione Essendo l'altoparlante un magnete cosa succede? Guardate che se io avvicino questo ovviamente non lo farò non lo fate neanche voi quindi la membrana che è molto delicata si potrebbe danneggiare perché questo va poi ad attaccarsi al magnete quindi adesso andiamo a vedere ancora quello che abbiamo trovato e poi vi faccio vedere una cosa questo è l'altro cavo di alimentazione il cavo contrassegnato con la lettera E sto cercando di mettere a fuoco l'immagine eccolo qui questo non è nient'altro che la prolunga che dovremo poi andare a connettere con l'uscita numero 44 dove c'era appunto il portabatterie eccolo qui l'alimentazione di tutti i servizi elettrici che questa auto poi ci donerà allora torniamo a noi io vi do questo consiglio guardate io mi sono creato questo è un dischetto di cartone lo vado a posizionare sopra delicatamente senza premere assolutamente ecco qua e ho la mia protezione come l'ho ottenuto? una moneta da 2 euro il cartoncino che trovate insieme ai fascicoli mettete sopra disegnino con la circonferenza con la penna e tagliate è importante perché visto che rimane scoperto un po' di tempo è facile che possiate danneggiarlo quindi mi raccomando vedete si attacca ma qui non corro alcun pericolo poi per provarlo mi basta semplicemente fare questo lavoro e lo provo ok? mi raccomando non premete sopra così ecco allora procediamo l'interruttore lo troverete in posizione spenta così con l'interruttore che è da questa parte verso l'unico spinotto privo di filo e così è spento dovreste già trovarlo così contrassegnato con la lettera F prendiamo la scheda oltre a vedere tutte le lettere eccole qui un attimo ecco le vedete in piccolo qui vi consiglio di mettere sempre la scheda rivolta come nelle istruzioni perché vi aiuta in questo caso la F è qui ve la indico un attimo la F è questa quindi andiamo a prendere l'interruttore e andiamo a inserirlo nell'unica posizione possibile guardate qui potete vedere i due connettori in metallo mentre qui dietro la parte tutta liscia bene la parte tutta liscia in ogni collettore va verso l'esterno non vi potete sbagliare andiamo ad inserire adesso la lettera F come la inserisco una volta messa così non faccio l'errore di premere guardate non premo lo spinotto così ma guardo quello che ho dietro non metto il dito dietro ma faccio questo lavoro qui dovete essere delicati guardate lo mettete solo qua senza metterlo sulle parti elettroniche qua ecco e abbiamo messo il primo adesso vediamo cosa ci dicono prendiamo l'altoparlante ecco qui e andiamo a metterlo qui dove c'è l'unico lato dove abbiamo uno spinotto lo guardiamo da sotto attenzione a quello che avete non dovete avere fretta non dovete assolutamente avere fretta con calma deve essere un piacere montare il modello non una cosa stressante appoggio il dito indice solo sul bordo dell'integrato non chiedo scusa del circuito stampato non sull'integrato quello nero ecco adesso guardate abbiamo inserito l'altoparlante e l'interruttore adesso andiamo a prendere il cavo di prolunga l'ultimo che vi è rimasto lettera E eccolo qui e andiamo a inserirlo o da questa parte o dall'altra io vi consiglio di tenere tutta la carta con le lettere verso la scheda ecco qui perfetto bene vi dico che adesso abbiamo finito il montaggio dobbiamo solo collegare l'alimentazione con ovviamente il cavo che corrisponde alla stessa lettera che è questo E ecco qua adesso prendiamo l'interruttore e andiamo ad accenderlo così acceso sarà quando lo avrete in linea con i due cavetti sotto ricordatevi poi di spegnerlo ora vado a levare la protezione questo è importante fatelo ragazzi datemi retta ecco qua prendiamo il telecomando lo accendiamo e proviamo l'accensione e il clacson le uniche due cose che possiamo provare le luci le proveremo nell'uscita numero 46 quella successiva proviamo l'accensione attenzione perché se la fate continuare il motore inserirà poi anche le marce o meglio il cambio chiedo scusa e sentirete proprio la macchina andare via voglio farvela ascoltare madonna che emozione ragazzi io le sentivo girare catturati da una cassa acustica bellissimo adesso andiamo a provare il clacson ecco l'unica cosa vabbè fatemi sapere nei commenti quindi se anche a voi dopo che smette di suonare fa questo suono di riflesso o meglio di ritorno sentite comunque funziona tutto ok adesso ci dicono di spegnere anche se secondo me questo interruttore ci servirà più avanti con le luci se vogliamo spegnere spegnere tutto subito proviamo ma penso che anche spegnendo l'accensione me la dà uguale infatti se invece schiaccio subito lo spegnimento si blocca va bene così andiamo a rimettere questa adesso prima di salutarci andiamo a spegnere qua e andiamo a staccare il connettore il connettore per staccarlo mi raccomando inserite l'unghia se non avete l'unghia mettete un cacciavite senza danneggiare nulla non tiratelo assolutamente mai dai cavi e fate questo lavoro qui delicatamente ecco qua meno piegate e fate i cavetti meglio sarà e andiamo a riporre questo in un luogo sicuro adesso prima di salutarci ti volevo far vedere ancora una cosa se dovete aprire il telecomando non usate cacciaviti perché lo danneggiate ma vi basterà prendere la plastica che ritaglierete da un blister adesso vi faccio vedere guardate e rivolgendo la plastica verso la parte più alta che abbiamo nel telecomando la inserite così la fate scorrere all'interno delicatamente sempre con calma vedete il telecomando si apre ok molto semplice non danneggerete nulla ecco qua ricordatevi che una volta aperta va sfilata la parte anteriore per rimontarlo va messa prima la parte anteriore e poi tirato indietro e agganciato ok tutto qui adesso prima di salutarci vado a prendere tutto quello che ho montato fino a questo numero e ci salutiamo lascio la camera accesa perché metto tutto qua vediamo così se qualcuno poi mi fa la cortesia di rispondere alla domanda che vi ho posto gentilmente se anche voi magari avete delle problematiche come quelle che posso incontrare io durante le fasi di montaggio oppure no guardate che spettacolo che bella lo sterzo è fluido senza nessuna difficoltà ho incertezza gira benissimo perché ho fatto quella modifica andate a vedere il video e se avete piacere anche di darmi un'ulteriore mano condividete nei gruppi dedicati i miei video grazie ragazzi allora andiamo a prendere questo e poi ci servirà nell'uscita successiva la 46 dove andremo a montare l'impianto luci dei fari primari secondari stop e cruscotto qui abbiamo i coprifari secondari bellissimo con i gancetti metallici e poi grazie a questi altri qua presenti sul musetto terra in sicurezza la protezione mentre invece questi superiori sempre metallici andranno ad inserirsi o meglio l'elastico andrà a inserirsi qua guardate che meraviglia sembrano sembrano veri questo è il cavo di alimentazione il volante in metallo verniciato il musetto altra opera d'arte di quest'auto riprodotto riprodotto giustamente in ABS perché la vettura vera ha il coprimotore e il cofano anteriore in vetroresina ovviamente essendo stata concepita per le corse hanno così ridotto drasticamente i pesi targhetta in alluminio guardate che meraviglia targa storica anche questo è tutto in metallo tutto verniciato non è plastica e basta è proprio verniciata poi lo potete prendere anche da sotto vedete che è bianca ecco qui bene volevo da darvi anche la possibilità di poterla guardare in altre immagini così riprese ecco questo è ovviamente il fondo ecco vedete a me piace proprio riprendere tutto molte volte anzi il più delle volte guardo i video dove vedi i montaggi e poi non ti fanno vedere niente che peccato carino anche il carter paracalore bellissimo quello quello lì sotto che protegge la batteria sopra no chiedo scusa protegge il motorino d'avviamento non la batteria perché il calore è sopra i collettori quindi ovviamente protegge il motorino d'avviamento che è sotto bellissimo un'altra ripresa da qui dove vediamo le cinghie dei servizi e distribuzione eccole qui con il filtro che bella bene ragazzi io vi ringrazio del vostro tempo mi raccomando se avete piacere state con me perché vado subito a preparare il video numero 46 lo so sono in ritardo ma faccio quello che posso non è questo il mio lavoro purtroppo non vivo di questo e neanche sopravvivo ve lo garantisco per cui appena riesco mi dedico e faccio quello che mi è possibile fare un saluto a voi grazie del vostro tempo un saluto a tutti i vostri cari più cari e grazie di seguirmi ciao ragazzi al prossimo video ciao